hai visto come sono la maglietta di cacca mo? si, adesso mi mescano le cose un casino puoi fare anche i pantaloncini con il divano, più o meno comunque figli eh, perché certo decadron questi, 3 euro, ma anche questa è la decadron si, però questa costa un po' di più, quanto costa? 6,50 6,50? 6,50, no no, non lo vanno trasferito, però vabbè se devi fare un matrimonio è una roba elegante infatti ho detto, la metto per le roba un po' più elegante, tipo le reaction si, questi invece sono di OBS, penso che li ho pagati 3 euro, infatti valgono 3 euro, però non indosso le mutande però almeno puoi rubare le calze quando vai lì e recuperi la spesa si, bravo, bravissimo, esattamente quello, senti, cominciamo ciao a tutti ragazzi, mi sono messo a me, siamo arrivati quasi agli sgoccioli perché sta per inizio cosa c'è dietro? il mare no, non mettere la casa da fighetti sempre, ho messo il mare, ho messo il mare che mare però non so, una spiaggia con gli ombrelloni sto mettendo dietro sei sicuro? si senza navi strani non sei convinto la concordia no raccomandati, più fai che li prendi ragazzi, siamo quasi agli sgoccioli SIGLA! sta per cominciare l'estate no, l'estate, siamo ad agosto pieno sta per cominciare l'agosto pieno e noi vi lasceremo per questo periodo come avete visto nel live precedente decideremo che piega dare al canale che linea adottare che strada per seguire o che strada non seguire quindi faremo un summit sabbatico comunque volete seguire le live perché ogni tanto le live le faremo perché tanto moriremo di noia si sempre vedremo se c'è qualcuno che vuole fare qualche reaction premium e ve li tiriamo fuori se non avete visto le vecchie cose andate a ve le riguardate se no ci vediamo a settembre e magari iniziamo a spostarsi anche su qualche altra piattaforma vediamo si vediamo, vediamo vabbò, oggi c'è di buono oggi c'è di buono da mangiare uno youtuber che si chiama Zano io non lo conosco no, io sì, lui ci conosce bene è un bravo ragazzo cioè non lo conosco nel senso che non ho mai visto nulla io YouTube lo uso per guardare i programmi di survival apocalittici come negli anni 90 e le conferenze di un certo signore allora Zano, niente male, remix, featuring Madman quindi è Zano che gli ha dato il featuring a Madman non il contrario io non conosco Madman quindi non so se la canzone di Madman niente male o di Zano quasi, no, un milione passa di view primo in tendenze per qualcosa come tre giorni noi faremo adesso che è sesto in tendenze per dare dei messaggi subliminari del 6 ah, ah siamo massonici, vecchiliani, mutaforma a volte non arrivo neanche io a capire quello che dice Barlow ma a volte non me ne frega subito padre un caccio benissimo allora andiamo a vedere Zano featuring Madman comunque io volevo fare, apri una piccola parentesi apriamo le parentesi io, 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 qualche tempo fa ho avuto un cazzo di scazzo un cazzo di scazzo del cazzo sei stato un rapper nonostante io sia uno YouTuber wow non puoi fare il rap se fai lo YouTuber non puoi fare il rap se fai il rap reaction non puoi fare qualsiasi altra cosa che non sia lo YouTuber se hai già iniziato a farlo YouTuber Madman cosa fai? vai contro i tuoi amici di Milano non si può andare contro i tuoi amici di Milano Madman cioè, quello è uno YouTuber non puoi fare una canzone rap ma anche le reaction non puoi fare le canzoni fate un summit voi eminenti no, voi eminenti esponenti del rap italiano fate un summit con delle regole perché se ognuno dice la sua cioè, che cazzo è? democrazia? qua c'è un, eh, bravo cioè, abbiamo imparato dai grandi a non avere la democrazia voi volete portarla a mezzo mettetevi d'accordo fate un antico testamento delle regole del rap ma il testamento ho scritto bene però perché altrimenti poi sarebbe prefazione fatta dagli occhi giusto bravo lui è capostia è l'eroino capo si è buono bravo chiudiamo la parentesi dai satira raga fatela analizzata fatela analizzata fatela analizzata io non c'ho più voglio fa ridere perché è vero però fa ridere fatecelo dire dai la sterilizzazione della satira non tirarti la maglietta che tanto sei grasso uguale ma tirarti una cucinata in faccia no no s*****o satira questa non è satira questa è la gag fisica no è la gag fisica che fa ridere il popolino perché non ti rompi una tastiera in testa che quelli aspettano questo eh no quella è violenza sei bravo a rompervi le tastiere in testa mi piacevi quando ti rompevi le tastiere in testa ma non quando dici le cose che non mi piacciono vai no niente male featuring madman remix produzione chakra vai chakra è un bel nome chakra ma c'è un video no speriamo di no c'è uno che prega e uno di tuffo e me ne fai quello che prega ma guai ah ma non c'è il video c'è l'aquila e il cavallo nero donna che animali totte che palla senza video non serve il video serve la musica non senti la canzone eh no sono allini ah un gozzano non si imbraccia ah ah fa la e questo è il trick della metrica che stiano avendo si come kratos track nel 2010 recchi a gare di cazzi vinco col naso ma che fatti fietà non si è fresco ma hai giusto un po' male la sguardo cioè che video senti che male eh 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 pokeball faccio a mano tante troppe cose lo zano e che cosa vuoi fumo vari tipi di or più vari tipi di treno manca da terzo mondo oggi un filo di piramidi su più scrivo questa bomba possiamo staccare vabbè era simpatica eh vabbè è un freestyle go si dai andiamo a leggerci il testo parleremo solo di zano madman è bravo e boh vaffanculo si madman ha fatto anche simpatica fa anche ridere un botto nonostante le cannette le fanno è stato divertente però ne fu un paio perché giochi dai è il testo da youtuber però no 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 il testo guarda che io ho notato delle grandi analogie con la stesura di Cristina d'Avena con gli infiniti ah ah si 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 zano lo fa anche quello che fa Cristina d'Avena quello che fa anche se hai una passione per il rap ma sei uno youtuber non fare queste cose dai non dire così non si può come no è riconosciuto dall'anno.it che è un rapper quindi c'era un rapper per spazio ma su anno.it ci sono le canzoni d'Italia Strikes con non lo so dovrò controllare forse si perché c'è anche Canesh ma Canesh non ci fa non appare in testo niente male sono ritornato fra sembra Natale sono ritornato quindi lui è babbo Natale sono ritornato sempre sempre più cattivo sempre più cattivo come sempre sempre più cattivo niente sono ritornato sempre più cattivo sempre sempre più da solo fra sono sociale a sociale come va? tutto bene fra questa è la novità allora se sei sociale non parli con la gente e risorgo dalle cene ritorno dall'aldilà tanti stronzi quindi aspetta risorgo dalle cene vuol dire che non è più a sociale? o perché è ritornato quindi fa la metafora come una felice ritornato come una felice ho capito il canale è morto il canale è morente il canale è morente tanti stronzi nella vita ti chiede come si fa sei pieno di falsità doggio con facilità doggio doggio ah ok vabbè dai termino da gamer Zano ti aggrava la gravità madonna eh sì non sento il tuo pezzo per carità beh i seguenti ti presunto un vicino di casa che quelli di sé cerco sul beat fra e qualità vedi questa roba che ti dicevo di chi sia una vera è facilità gravità carità qualità finirà è tipo doggio con facilità zano ti aggrava la gravità hai capito è quella siamo sti youtubers come Kratos ah slamos sti youtubers come Kratos stack nel 2010 recchi con la Dazzle con la Dazzle la Dazzle non so cosa sia tutto quello che ho fatto fra non è mica un caso a gare di cazzo vengo col naso ma perché ha il nasone non so ma che carina è questa sai che vado di fretta non sei fresco sei una stufetta Vito la stufetta è calda tu non sei fresco sei una stufetta è come fare la rima bambina o comodino questa roba 10k in una giacchetta ah 10k di che cosa non sei figo sei una capretta ma è veramente Cristina la vera qua ragazzi sei una capretta cioè la graffi diceva zero stile capra e tu invece sei una capretta qui nella citazione trappo finché no non esplodo finché non finisce lo sfogo chiedo scusa ma non perdono me la canto pure se stono e poi c'è medbe e poi c'è medbe vabbè è figa leggiamola se no sembra che no leggiamola è figa entro sulla base del fenomeno entro sulla base del fenomeno manda sul suo culo tondo e duro tipo pokeball è qua è una volta però facciamo a mano tante troppe cose bro fanno a mano canette stupido io anche però se medbe ha il mio senso problema con la pornografia faccio scuola vinco con una mano sola fra revolverò ocelot si lo zanone mi spiace a 12 anni che la devi spiegare lo zanone che cosa vuole le mie barre il suo terrone che cozzalone la mia merda è post malone in un posto al sole geniale versi fai posso ripeterti la bolla no che poi viene l'infisema ah ah senti quel calabrese che faceva lo stupratore nei film vecchi tipo la dottoressa le grandi manovre che cazzo mi vedo l'hai trovato e cosa mai ti dico fare con il baffone con i manoni che merda possiamo mandare una clip se la trovi che merda immaginatevi che abbiamo mandato la clip non mi importa niente se piangi giuro le canette di tangi carina fumo vari tipi di ortaggi tutti fumi il cazzo oh ma quante citazioni di graf si tutti fumi il cazzo fammi la chimica del terzo mondo voglio un chio di tiramisù più mezzo pollo youtuber anch'io da stasera youtube anch'io di sta merda sono il king e quindi po vabbè questa era brutta era gratuita niente male faccio su ma forse è una citazione di blur però eh faccio su quando arriva questa c'ho il cazzo che sembra blur dopo la palestra bella Zano hate is gonna hate rap one take spacco e scappo mando hate bella se facciamo conto che Zano non è un rapper no è un rapper se rappa con me ho capito quindi è un rapper allora io come devo valutarlo come un rapper o come un youtuber che fa del rap perché rapper e chi fa il rap poi c'è rapper scarso e rapper che spazio ho due mi divido in due parti fino a prova contraria rapper e chi fa il rap mi divido in due parti quelli che dicono io sono rapper perché vivo l'hip hop e bla 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 e tutto quanto potremmo dire hip hop heads o pionieri quindi è un youtuber che canta in chiave rap possiamo dire così? ah non lo so noi non siamo nella scena non possiamo decidere noi hai ragione allora facciamo una cosa devono decidere loro facciamo una cosa per madman non lo so dove si chiede la madman facciamo una cosa allora io quando quando parlavo di Tyler Strikes Tyler Strikes potevo dire che è un youtuber che fa rap e se l'è cavata bene e la rapata di Tyler era molto a tema con il suo essere youtuber nel caso di Zano è uno youtuber che fa rap e se l'è cavata bene meglio delle sue colleghe donne che fa male vabbè Shad è venuto da youtube ha aperto Eminem è amico di tutti che non è uno che attacca briga e tutti comunque lo stimano perché adesso che cazzo vuoi dirgli che ha aperto Eminem lui e non gli altri non è male il pezzo non è bruttissimo no il pezzo è è scritto ovviamente da un ragazzo che non è il suo lavoro fare rap vabbè si sente la differenza poi tra madman e Zano ma si sentirebbe con chiunque diciamo che avere madman di fianco nella stessa traccia magari ti distrae un attimo da te però se io ti dico che solo sentendo il primo pezzo ho detto minchia sembra scritta da Christina Davena ma non come contenuti è tipo di scrittura devo dire che è una scrittura da sigla da cartone animato con poi un altro pezzettino rappato ma Zano io adoro le sigle dei cartone animati io a casa faccio party art venerdì sera mi faccio tutta a Finlandia 16 poi vabbè te la sei rappato va bene sti cazzi ma se l'è cavata meglio di molti suoi colleghi e meglio di molti rapper ma ci sono io per giudicare giudicheranno gli haters giudicheranno i fan e vedremo che si esporrà a fare questo caso nazionale e in tanti altri casi lo youtuber non doveva rappare cioè alla fine Vittor Ugonico quando ha fatto quella merda è una rappata la merda se la fate più di una merda rappata se di fianco ci fosse stato uno schioffi piuttosto che un erone piuttosto che l'avresti considerata allo stesso modo di questa il problema è che se tu accosti poi il ragazzo lo youtuber il wannabe senza non mancare di rispetto a nessuno ha poi un nome già affermato è ovvio che la valuti proprio come se fosse rap perché? perché entra un fattore diverso capito? non è più un gioco non è più hai posteri lardo a sentenza no non so come uscirne perché in realtà secondo me se uno fa lo youtuber non è che poi deve essere legato a fare solo quello è una cosa tipicamente italiana che non esiste in nessun'altra parte del mondo sai cos'è? la paura dei numeri uno youtuber ha già il suo numero ha già il suo numero di seguaci che riuscirebbe a far paura a qualsiasi rapper della vecchia o della nuova ma non in vista scena ma il rapper deve puntare sulla qualità non sui numeri è quello il problema è che è un cazzo dei numeri se il rapper mette il suo video su youtube è l'unico modo per vederlo su youtube ci sono altre piattaforme per vedere i video ma non sono così famose diciamo che gran parte dei numeri i rapper dei video li hanno su youtube quindi se tu fai il rap però poi il tuo video non lo metti io ho rap all'una di notte ma lo metti su youtube come metto su youtube io i miei video dove faccio il coglione alla fine stai usando una piattaforma che non è la tua come non è la piattaforma il rap non è la piattaforma dello youtuber youtube non dovrebbe essere la piattaforma dei rapper tu usi il metodo dello youtuber caricando dei video su youtube per fare like commenti dislike eccetera viralità tu stai facendo lo youtuber se si incontrano le realtà non che però hai sempre due pesi due misure quando mi fa comodo sei youtuber e quando mi fa comodo va bene un po' di correttezza non dico coerenza perché è una parola che usano tutti i bimimi in chiamato correttezza correttezza no in tutto questo voglio anche buttare spezzare una lancia su young signorino avete attaccato tutti quanti perché lui è arrivato su youtube ha fatto i numeri tramite youtube perché tutti gli youtuber l'hanno propsato tutti quanti l'hanno propsato e avete fatto diventare casa nazionale attaccandolo a tutti i costi il ragazzo è la stessa identica cosa mi aspettavo che qualcuno lo attaccasse per poterlo difendere e no è vicino a madman se no poi hai capito non vuoi fare la guerra con madman ti apri il culo con un dissing ciao coglioni ciao ciao ciao